Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la terza maglia degli Spurs, Tottenham Hot Spurs, per la stagione 2022-23 in edizione FUN, la maglia di Sun. La terza maglia Nike Tottenham 2022-23 introduce un look abbagliante in turchese scuro con accenti e rifiniture in bianco e nero. La caratteristica distintiva della nuova terza maglia degli Spurs è una stampa grafica astratta che copre l'intera maglia. I loghi sono completamente bianchi, inclusa una versione monocromatica del badge Spurs. Completano il look un girocollo nero e polsini metà neri e metà turchese scuro. La maglia Nike Tottenham Hot Spurs è disponibile da agosto 2022. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Voi cosa ne pensate? Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Secondo me è una bellissima maglia. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, scrivetemi quale altre maglie vorreste vedere. Qui in alto trovate il prezzo bassissimo e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un buono da 3 dollari che potete utilizzare sul sito. La maglia ha una qualità eccezionale, è arrivata in un tempo brevissimo, arrivata in 17 giorni e devo dirvi che sono estremamente soddisfatto. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità, però prima di farlo se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Grazie a tutti!